Tutti facciamo parte del reinserimento sociale dei detenuti ed è penoso il generarsi di sistemi penitenziari che non cercano di curare le piaghe e generare nuove opportunità. A Filadelfia Papa Francesco, come pastore ma soprattutto fratello, ha voluto condividere con cento detenuti della prigione Carran Frommhold la dolorosa situazione e presentare a Dio quello che ci fa male. Dopo aver preso posto su una sedia realizzata dai detenuti stessi, il Pontefice ha ricordato che Gesù lava e cura i nostri pieti dalle piaghe di un cammino carico di solitudine e ci viene incontro per aiutarci a recuperare la nostra speranza. Vuole che torniamo alla vita sentendo che questo tempo di reclusione non è stato mai sinonimo di espulsione ed è scattato un applauso tra i detenuti mentre tra i familiari c'era chi seguiva il discorso con le mani giunte, in preghiera. Tutti abbiamo bisogno di essere purificati e lavati da qualcosa, io per primo ho proseguito Papa Francesco e il Signore ci cerca tutti per darci la sua mano. Questo deve risvegliare la nostra solidarietà e cercare di realizzare il reinserimento sociale dei reclusi che benefica ed eleva il livello morale di tutta la comunità. Gesù, ha concluso il Papa, ci invita a non scandalizzarci della polvere della strada e anzi di cercare di sanare. Ci invita a lavorare per creare nuove opportunità per i detenuti, per i loro familiari, per tutta la società. Prima di lasciare il carcere, Papa Francesco ha voluto salutare personalmente i detenuti delle prime file. Grazie.